no il secchio raga difficile la mia zia ha detto di farmi la bella la mia cugina andiamo guardate com'è difficile no donna maria rosa in bagno non ci rivela in bagno non ci rivela la sto facendo la babysitter che c'è madonna madonna maria rosa è difficile a farti però allora basta no il cugino li prendi boom brava seduta stati seduta la faccia mia com'è difficile bello ma difficile ma tu basta basta alzati dove va tu non devi prendere le mie ziappate via alzati 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 no dadda guarda dadda guarda dadda dadda vedi a dadda 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 io mi ammazzo nana basta basta no alzati ti devi alzare brava c'è un anno e do so camminare non 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 aprire il mio pneumatico maia non non devo fare il tuo video prima mi sa proprio di sì che io mi sto spaccando le ossa mi sto spaccando le ossa per colpa tua madonna i panni no dai i panni giro giro basta basta composta di bene che pirla che sei magic ti saluto mamma no vabbè comunque immagino ti saluto in questo video pure se l'ho salutato un'altro però ti saluto un'altra volta perché io ti adoro pur se non ti conosco ma ti stai ferma mare rosa mare rosa per favore ma non mi ammazzo questa è mia cugina di secondo grado mia cugina di secondo grado fa è è una sportacciona una litigio pure i miei quaderni mi prende pure pure i miei quaderni mi prende no in te mi mi prende mi prende mi prende mi prende no vabbè no in giardino dai wow che doveva andare noi non ti stai ferma con i panni no la presa non la presa non la presa non la presa non la presa via 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 ora questa è una challenge ahahah 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 go go vabbè 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 vai perché non si può seguire e fare un po' l'adeguata no eh no stai prendendo la testa no 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 dammelo brava brava cucinetta si può provare una neve è una stress giuro è una stress è una stress trucco trucco a me trucco a me è il mio top me l'hai rotto grazie Maria Rosso mi ha rotto il coso no te ne vai ora te ne vai ora sto tranquilla no 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 madonna madonna il mio diario segreto no? mai polvo non è tanto di amico la foderina di mia mamma la foderina di mia mamma allora cioè tu vuoi tutto dalla mia vita cosa? cioè vuoi tutto? non ho capito allora va 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 trucco 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 non ti devi truccare no madonna mia sei così bella bella tranquilla bella tranquilla eh no 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 non vuole stare tranquilla aspetta stay safe stai qui vai cimè dov'è? no no adesso adesso Non c'è nonna. Non è al lavoro, andiamo oggi. Perché ho una cugina così? No, 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 no. Le prese no, le prese no. Braga, stai qua. Grazie a tutti i nostri esseri.